Bene ragazzi, prima del video mi raccomando, non dimenticate, di fare un salto nel primo link in descrizione, quello di Instant Gaming, dove potrete trovare anche Resident Evil 2 a un grandissimo prezzo. Mi raccomando ragazzi, primo link in descrizione, Instant Gaming! E' bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di un sacco di novità riguardante i prossimi giorni di Fortnite. Ovviamente, per la precisione, nel video di oggi parleremo di un grandissimo bug scoperto da pochissime ore relativo al pupazzo di neve. Attenzione, io ve lo faccio vedere, ma ragazzi non fatelo, rischiate il ban. Parleremo anche del nuovissimo torneo ESL organizzato da una compagnia spagnola insieme ad Epic Games. Montepremi veramente ricchissimo per questo torneo e vedremo anche la nuova modalità in arrivo nei prossimi update di Fortnite. Ma prima vi ricordo ragazzi, un bel pollicione in su, se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al canale e non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ragazzi, eh lo sapete, eh lo sapete la domanda, ve la devo fare, ve la devo fare, vi faccio la domanda, i vostri commenti qui sotto. Sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti ed è una domanda molto molto semplice. Qual è il tuo stile preferito del re dei ghiacci? Io l'ho appena sbloccato, sono poche ore da quando ho disponibile il re dei ghiacci, mi piaceva quello blu, quello rosso non è male, ma a me piace tantissimo. La versione finale, quella arancione veramente OP, ditemi ragazzi qua sotto nei commenti invece qual è il vostro stile preferito. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare della ricompensa. Ovviamente sono uscite alle ore 20 di ieri sera le ultime due sfide della tempesta che cominciano ragazzi a far vedere un barlume di fine con questo evento che ha portato un sacco di cambiamenti anche a livello del gameplay, sono arrivati i mostri. Ecco ragazzi, quindi la slitta che la Wainer's Thorn in inglese, che sarebbe il back, il deltaplano della regina dei ghiacci, se volessimo essere precisi, viene regalata al completamento di tutte e 13 le sfide. Quindi mi raccomando, datevi da fare per terminarle e quindi portarvelo a casa. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece dell'argomento molto molto interessante che è il Katowich Royale, che è un torneo ESL, praticamente entra di diritto negli e-sports. Ci sono ragazzi veramente un sacco di cose interessanti. Allora, ESL Katowich, che è il nome dell'azienda, partecipa con Fortnite all'IEM Expo del 2019, che non dovrebbe tardare ad arrivare. Dicono direttamente che hanno collaborato con Epic Games per portare il gioco, che ha preso d'assalto ovviamente il mondo intero, con l'evento di punta dell'SL, Katowich Royale. Porteranno ragazzi questo grande torneo a coppie, che vedrà un monte premi di mezzo milione di dollari. Torneo nel quale parteciperanno 200 tra i migliori streamer e giocatori di Fortnite. Quindi ci sarà Tfue, ci sarà probabilmente Ninja, troveremo Daikan. Sapete ragazzi che purtroppo noi, anche se siamo italiani, e vantiamo di avere un piccolo numero, ma di giocatori veramente fortissimi, non abbiamo mai ricevuto inviti su questi tornei incredibili, che per noi sono purtroppo un lontano sogno. Il torneo ragazzi si terrà il primo marzo 2019, e durerà due giorni. Sappiamo semplicemente che tra tutta la lista di giocatori, ci saranno appunto, come vi dicevo, c'è Tfue Clock, quelli che hanno vinto il torneo qualche mese fa, hanno vinto 150.000 dollari, per una cosa del genere, c'è Bo, Mushway che me lo ricordo di nome, insomma ragazzi, tanta tanta roba per questo evento SL, che continua a confermare quanto Fortnite sia sulla cresta dell'onda, nonostante siano passati oramai quasi due anni dalla data di uscita. Andiamo avanti ragazzi, e parliamo invece dell'argomento un po' più con un sugoso, un succulento raga, era tanto che non dicevo un sugoso, mi sa che molti di voi non l'hanno neanche mai sentito dirmelo, il bug del pupazzo di neve. Allora, lo Sneaky Snowman ragazzi, sta cominciando ad essere utilizzato in maniera un pochettino più massiccia nelle partite, diciamo che i giocatori hanno capito che in realtà non è proprio una porcheria, è abbastanza interessante come oggetto. Voglio farvi vedere un video ragazzi, in modo da farvi capire. Allora, questa vi faccio prima vedere senza dirvi niente. Ma perché? Sette kill. Ma perché? E qua uno dice, porco Giuda, porco Giuda, come cavolo è possibile? C'è un tizio con un pupazzo di neve che allegramente stava andando in mappa. Beh ragazzi, c'è un metodo per utilizzare le armi dal pupazzo di neve. Ve lo faccio vedere. Raga, state attenti a non provare a farlo durante le vostre partite. Rischiate il ban, ve lo dico sempre. Guardatelo ragazzi. Allora, che cavolaccio, cavolaccio, cavolaccio. Eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Dovete fare un muro, tirare in mezzo al muro il pupazzo di neve addosso a voi stessi e come vedete il giocatore può sparare agli avversari. Ve lo faccio vedere da un'altra inquadratura. Guardate, c'è il muro davanti, voi vi tirate il pupazzo di neve che rimane incastrato tranquillo easy nel muro. Distruggete il muro, quindi rimanete un pupazzo di neve, ma avete la pistola e quindi potete tranquillamente distruggere tutto quello che vi pare, sparare anche ai nemici e ovviamente molto difficile che siate sgamati in questo modo. Mi raccomando, attenzione, se volete provarlo con i vostri amici, provatelo, hociò a farlo in game. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un secondo invece degli update che sono arrivati anche su Save the World. arriva ragazzi la fase numero 4 delle sfide del Frost Knight. Anche qua stiamo per arrivare alla conclusione ragazzi. Oramai abbiamo quasi tutti terminato le sfide della settimana numero 8 di questa season 7, mancano due settimane e poi arrivederci a tutti. Penso che tra qualche giorno cominceranno ad arrivare le prime informazioni, i primi leaks sulla season numero 8. Che cosa dice ragazzi questo quarto evento del Frost Knight, Chaos Freddo, ai nemici feriti sono applicati modificatori, completa questa sfida per ottenere un'arma leggendaria. Quindi ragazzi, mi raccomando, dateci dentro se state giocando a Salva al Mondo, un'occasione imperdibile per ottenere un'arma leggendaria e mi sembra che nelle sfide del Frost Knight ci siano anche degli standardi esclusivi che non si potranno ottenere se non giocando appunto le missioni del Frost Knight. Ci porta questo ragazzi all'ultimo argomento del video che è appunto la nuova modalità spettatore che vi avevo anticipato all'inizio. che cosa sarebbe? Allora, innanzitutto è un evento ufficiale organizzato da Epic Games purtroppo solo per i giocatori residenti nel Nord America. Praticamente se sei residente nel Nord America e mandi una richiesta ad Epic Games di partecipare al test event per la nuova modalità spettatore loro qualora dovessero accettarti oltre ovviamente a spesarti tutto il viaggio ti regaleranno anche un gruzzoletto di V-Bucks extra per il tuo profilo. Questa ragazzi partiranno i test server il 4 febbraio termineranno il 12 febbraio vedranno un po' di player che giocheranno in partite controllate dove ci sarà la possibilità di spettare un nostro compagno di squadra quindi mentre sta giocando potremo entrare e vederlo una funzionalità sicuramente molto molto interessante che secondo me ci vorrà un po' prima che arriverà per tutti noi ma comunque i test server sono iniziati e quindi i lavori sono più che in corso. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.